Oggi parliamo di Space Economy. Ultimamente se ne sente molto parlare, ma cosa si intende in realtà e quali sono i benefici per la comunità? La Space Economy si intende una catena di valori che si è partiti dalla ricerca, poi il discorso con lo sviluppo delle infrastrutture spaziali, quindi il lancio di satelliti come Galileo, Copernicus, per tutto il discorso dell'osservazione della Terra e quant'altro. Il vantaggio di questo enorme investimento, che anche l'Unione Europea ha fatto grossissimi investimenti in questo settore qua, è proprio perché dall'infrastruttura spaziale si possono poi ricavare numerosi dati per l'osservazione della Terra che combinati a dati poi in sito, quindi di monitoraggio in sito, piuttosto che anche con dati, poi i GIS tradizionali, quindi dei dati georeferenziati dove ci sono degli studi territoriali, integrando tutto questo si possono fare effettivamente molte applicazioni. Esempi, non so, precision farming, piuttosto che un discorso del monitoraggio dei movimenti franosi, piuttosto che dati ambientali, di tutto questo senso qui. Quindi, diciamo, è un trend molto importante per l'economia e applicata poi in vari settori. Poi dai dati, già la Commissione Europea ha sviluppato, ha promosso e finanziato lo sviluppo di servizi per quanto riguarda l'atmosfera, l'ambiente marino, il territorio, i cambiamenti climatici che sono assolutamente di grande importanza, la sicurezza e l'emergenza. Quindi, diciamo, si è sviluppato un ventaglio di servizi e quindi di applicazioni sul territorio. Ricordiamoci che poi tutti i dati che arrivano dai satelliti sono aperti, quindi si può sviluppare un ambiente molto fertile di aziende che possono utilizzare questi dati per sviluppare le attenzioni di business.